Ah, cia! Che stavo! E poi! La mettono adesso i regali! Guarda! Questa è di Ionica! Ma manca tu! Dov'è il mio popolo? Ma non è la media però! Questa è proprio da giovane! Da figa! Da figa! Cosa pensi te? Cosa credete? Non ci penso io! Quella devo districare! L'hai trovato? Attenzione! Sì! Ce l'ha portato lui! Ah, ma! Non ce l'ha di là, guarda! Non lo dico a te nemmeno! Sì, che bello! Sì! Ma non si prova! E' pronto il lavoro! Ma la moglie! Mi pagano? No! Un cazzo profondo! Non penso profondo! E' Edoardo e' Rosi! C'ho in natura! Ragazzi! No! Ebbene sì! Così sta! Grazie!